Musica Può un sistema di intelligenza artificiale capire la complessità di una partita di calcio meglio di Jurgen Klopp, Peppe Guardiola o Jose Mourinho e possono, sofisticati modelli matematici, cambiare le strategie di gioco di una squadra in tempo reale meglio di come potrebbe fare una mente umana super allenata per fare solo questo. Beh, io non so quale sia la vostra idea, ma so che tra qualche minuto potrebbe essere diversa. Stiamo infatti iniziando un viaggio oltre la crosta superficiale della partita di calcio, un viaggio alla ricerca di quelle concatenazioni, causa-effetto che determinano l'andamento delle partite e spesso anche il loro esito. Un viaggio sorprendente. Come grande fu la sorpresa che accolse Heisenberg quando approdato sull'isola di Elgoland nel mare del nord nel 1925 scoprì una strana bellezza, quella della fisica quantistica, dello spazio e del tempo. Ecco, noi entreremo dentro le relazioni spazio-temporali della partita di calcio e lo facciamo subito attraverso questa azione della nazionale italiana, vista prima con la ripresa televisiva e poi andiamo a esplorare questa azione con un'animazione 2D che ci permette di vedere le zone di campo dinamiche più strategiche, dandogli un significato che poi noi traduciamo attraverso un nome e un cognome ad esempio chiamando ampiezza le zone laterali, rifinitura la zona tra le due linee di centro campo e di difesa e profondità, la zona oltre la linea difensiva. Ecco, praticamente stiamo facendo un viaggio dal mondo della realtà fisica, il luogo degli oggetti al mondo della realtà metafisica, il luogo dei concetti, dando un segno distintivo ad ognuno di questi. Bene, di fatto abbiamo creato un metalinguaggio delle forme mutevoli del calcio. Questa è la nostra direzione, un intreccio di contaminazioni interdisciplinari, dalla fisica alla metafisica, dalla matematica alla statistica. In questo percorso non potevamo non incontrare l'arte. Sì, perché qualche anno mi sono imbattuto in un breve esagio di disegno del pittore russo Kandinsky che utilizzava il punto, la linea e la superficie per tracciare le dimensioni del disegno. E mi colpì molto, sin dal titolo, perché io già da anni utilizzavo gli stessi elementi per analizzare la partita di calcio. E andiamoli a vedere. Il punto, lo strato più superficiale del calcio, che possiamo pensare come una torta a tre strati, dove il punto è esattamente dove il giocatore incontra il pallone. Un momento magico che catalizza l'attenzione di tutti. Ecco, quel punto poi si unisce ad altri punti, creando delle linee. Stiamo entrando nel secondo strato della nostra torta, quello dei passaggi, che alla fine non è altro che una forma di linguaggio non verbale, che i giocatori usano in campo per comunicare tra loro. Delle intese istintive che permettono di definire un tipo di azione, che può essere un'azione verticale, un contropiede molto veloce, oppure un'azione manovrata con tanti passaggi preparatori orizzontali. Ma perché le squadre adottano una strategia o un'altra strategia? Per capirlo, per andare nelle cause, dobbiamo andare nel terzo strato della nostra torta, quello più profondo, che è quello delle contrapposizioni delle superfici delle due squadre, dei poligoni che si muovono intrecciandosi tra di loro. E siccome a noi non ci interessa la metrica esatta di queste dimensioni, ma ci interessa il significato cognitivo, calcistico, ci viene incontro la topologia. E nessuno, meglio di Poincaré, ce la può spiegare, attraverso la sua congiuttura. Lui poneva e si poneva questa domanda, un pallone da calcio e un pallone da rugby, sono uguali o sono diversi? Ecco, secondo la geometria, e forse secondo anche il nostro percepito, diremmo che sono diversi. perché il pallone da calcio ha una superficie circolare e il profilo del pallone da rugby è ovale. Invece per Poincaré sono due figure uguali, perché non hanno discontinuità nella loro superficie, sono due figure piene. Ecco, passa poi Poincaré a rapportare un Kraffin con una ciambella. Sono uguali o sono diverse? Dal punto di vista geometrico, sono entrambe figure circolari, per cui dovrebbero essere questa volta uguali. Invece Poincaré ci spiega che sono diverse, perché il Kraffin è naturalmente, lo conosciamo tutti, una figura piena, come due palloni visti in precedenza. Mentre la ciambella ha un buco. Ecco, nel calcio si va alla ricerca di questi buchi. E ve lo faccio vedere in maniera semplice, attraverso un dialogo che ho ricostruito con un po' di fantasia tra Kaleion e un suo compagno di squadra, Zelinski, dove Kaleion dice al compagno guarda io mi allargo, porto fuori il difensore avversario dalla difesa Kraffin della squadra avversaria. A quel punto crea un buco, la difesa diventa ciambella, ti entra in quella ciambella e vai a fare gol. Benissimo. Se mi avete seguito fino ad ora possiamo andare oltre e parlare di Cristiano Ronaldo, di un gol fatto in Champions League da Cristiano Ronaldo un paio di anni fa. Vediamo prima la solita ripresa televisiva che ci fa vedere l'aspetto visibile, superficiale dell'azione. Vediamo un'azione veloce, concretizzata poi da Cristiano Ronaldo con un grande colpo di testa. E poi andiamo a rivedere questa azione attraverso la sua matrice spazio-temporale. e scopriamo che la difesa della squadra avversaria l'Ajax inizialmente è a Kraffin, non ci sono buchi nella profondità di cui abbiamo parlato precedentemente. Poi improvvisamente Cristiano Ronaldo quando riceve il pallone fa una scelta diversa, si gira di spalle e non punta l'avversario, attirando su di sé il difensore come una calamita e creando improvvisamente una voragine alle spalle della difesa dell'Ajax che diventa ciambella. e il suo compagno di squadra che gli va passato il pallone Bentancur vede quello spazio, ci si butta dentro, lo aggredisce e poi continua la sua corsa verso il primo palo portando con sé un altro difensore e creando un altro buco, un'altra ciambella che vedono i compagni di squadra, che vede Canzello che farà il cross in quel basket e che vede Cristiano Ronaldo che arriva e farà gol in quel buco. Bene, se questa è la causa di quel viaggio della palla, se queste sono le cause che noi dobbiamo andare a ritrovare per capire il calcio, la domanda che faccio è questa. Possono sistemi tecnologici oggi trovare queste cause in automatico e in tempo reale? Bene, la risposta è affermativa. C'è un modello adottato dalla Lega Serie A che permette di vedere le partite di calcio attraverso delle telecamere speciali appuntamento missilistico che riescono a distinguere i pixel delle maglie dei giocatori dal background del campo e quindi a darci le x, y dei loro movimenti, 20 frame al secondo. Questi rodata poi viaggiano velocemente sul cloud dove incontrano degli algoritmi molto sofisticati di intelligenza artificiale che attraverso l'analisi di queste traiettorie elaborano delle visualizzazioni e degli indicatori di prestazione che vengono restituiti in tempo reale con zero tempo di latenza nelle panchine degli allenatori e gli allenatori possono guardare queste informazioni per capire meglio la partita e migliorare i loro processi decisionali. Adesso vi faccio vedere un piccolo video dove si vede questa app tablet in funzione qualche settimana fa a San Siro, Milan-Atalanta e si vedono sul tablet le visualizzazioni di quelle aree di pertinenza dei giocatori di cui parlavamo prima e poi si vedono degli indicatori assolutamente innovativi, rivoluzionari per capire una partita come l'indicatore di pericolosità di una squadra oppure l'indicatore di pressione esercitata o subita dai giocatori oppure la disponibilità di un attaccante a ricevere palla il pass risk ecco tutto questo arriva in panchina ma sono milioni di dati come fa un allenatore a capire qual è quello che gli può servire? Bene, tornando alla quantistica questi dati vengono pacchettizzati inviati in panchina solo quelli più utili all'allenatore e vediamo questa azione andiamo a vedere un'azione entriamo in panchina e vediamo cosa vedrebbe l'allenatore questa è un'azione dell'Inter che porterà un gol contro la Juventus inizia col portiere che ha la palla nei piedi e deve decidere cosa fare ecco quello è il punto è l'analisi a punti lo strato superficiale della nostra torta tutti vedono quel punto nessuno vede che lontano dall'altra parte del campo sta nascendo la causa di come si svilupperà il gioco il terzino opposto della Juventus decide di andare alto lasciando un buco dietro di sé e la mezzala dell'Inter già vede quel buco Bastoni riceve la palla dal portiere e lo vede anche lui Barella parte in quello spazio il difensore parte con il suo lancio in quello spazio che il virtual coach così si chiama questo strumento aveva già predetto e quindi si crea un viaggio della palla che è la conseguenza di questa matrice spazio-temporale questo è quello che oggi un sistema di intelligenza artificiale può fare e allora torno alla domanda iniziale questo è una minaccia o è un'opportunità per un allenatore e la risposta la faccio dare da Mauro Berruto ex commissario tecnico della Nazionale di Volley che ha detto ogni informazione che mi arriva da un sistema tecnologico che può vedere oltre quello che vedono i miei occhi può aumentare la mia conoscenza e quindi può aumentare la mia capacità di allenare grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti